Benica Iola è stato il nostro primo cliente, ma soprattutto un grande amico. La Guaira BC è la tua macchina, te la dedico col cuore. La Guaira BC è la tua macchina, te la dedico colore. La Guaira BC è la tua macchina. 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 La Guaira BC è la tua macchina.